Siamo qui da Stefano Alvi, per me è un piacere perché oltre ad essere un grande imprenditore è un grandissimo amico, è una persona che si è fatta da sola, ha proseguito un po' il sogno di suo papà ma ha reso questo ancora più grande, anche in un momento così difficile, non solo per lui, un po' per tutti gli imprenditori, però è vicino a me come persona, al mondo della palla a mano, al mondo dello sport, quindi il suo sostegno anche in un momento così difficile non è mancato, come non sta mancando normalmente il sostegno di tanti piccoli imprenditori verso la società della palla a mano. Sono molto soddisfatto, sul campo abbiamo ottenuto risultati inaspettati, da qui ai prossimi mesi stiamo già in questo momento programmando il futuro perché sì abbiamo fatto bene, è un punto di partenza, gli ottimi risultati, così li definisco in questo primo campione di A1 e ci aspetto veramente tante sorprese a breve per programmare il futuro non solo della prima squadra ma della mano continua in generale. Ok. Grazie. Grazie. Grazie.